I tuoi pazienti ti adorano per la tua empatia. Ho anche uno sguardo gentile. Perché sei qui? Ma non vuoi bene a tutti i tuoi pazienti. Certo che no. Scommetto che alcuni ti annoiano. Il cancro viene anche a chi è noioso. Perché sei qui? Ma tu fingi interesse per loro perché devi farlo, giusto? E se lo fai a lungo diventa un vero interesse. Beh, no, perché l'interesse non è mai falso. Veramente. Perché ti rendi conto che non sono noiosi, ma che eri tu a non capirli. Non ho ancora trovato il modo per renderli interessanti. Dipende tutto da quello che si ha in comune. Trovi una cosa che entrambi amate o odiate. I film di John Woo, i romanzi d'amore, i cavoli. A volte il modo migliore per legare con qualcuno è smettere di pensare a lui e concentrarti su te stesso. Ma perché queste domande? Sai, non tutto è routine. Ci vediamo. E' 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 Grazie a tutti